buongiorno a tutti io sono dimitri bellini e siete di nuovo qua insieme a me su quadrata il mio canale dedicato al mondo dell'open source e in generale alle soluzioni it più interessanti per lo meno dal mio punto di vista più interessanti ma oggi andremo a parlare di nuovo di chi del nostro amico zabbix perché perché tramite il forum forum il canale telegram scusatemi zabbix italia e vi ricordo di iscrivervi se non siete già iscritti mi è arrivata una richiesta di un ragazzo mi diceva come posso esportare dei dei dati in csv dallo zabbix quei dati specifici non erano esportabili facilmente non c'era il tastino export to csv bisognava per forza di cose creare una query ok una query sul database zabbix e poi in qualche modo esportarsi questi dati il che non è proprio da tutti ok non è proprio semplicissimo già solo il fatto che bisognava fare una query però andare alla ricerca di come fare questa cosa mi ha portato a scoprire che non lo sapevo manco io che a dicembre proprio a fine anno zabbix aveva fatto un bel post nel loro blog quindi blog punto zabbix punto com in cui facevano vedere proprio un modulo quindi uno una specie di addon da collegare allo zabbix server che ci permetteva di creare delle custom query e poi esportarle volendo anche in formato csv quindi il risultato in csv e questo secondo me è molto interessante perché apre un insieme di opzioni ok quindi oggi andremo a vedere proprio questa cosa qua come installare innanzitutto un modulo su zabbix che magari non tutti lo sanno come si fa e poi andiamo a vedere a che cosa serve questo modulo nello specifico creato da gregory gregory calenco ok è proprio uno sviluppatore di zabbix quindi partiamo dai fondamenti qua nel blog viene spiegato chiaramente tutto tra l'altro come come si fa a installare il modulo spiega anche le motivazioni per cui hanno creato questo modulo ma la cosa più importante è che questo modulo è compatibile dalla versione 5.0 e 5.6 di zabbix ok quindi è compatibile per le ultime versioni lts di zabbix senza problemi probabilmente anche con la 6.2 non l'ho provato ok vabbè altra cosa interessante è che funziona sia con mysql che postgres come database back end del vostro zabbix server quindi è agnostico ok non dovete porvi grandi domande sul fatto che ci sia mysql o postgres quindi è abbastanza semplice poi ci dà appunto la possibilità di avere l'esportazione in csv i profili che andrete a scegliere all'interno del modulo saranno salvati all'interno della tabella di profilazione del vostro utente quindi non va a creare dei nuovi dati all'interno dello zabbix server perché non bisogna mai fare una cavolata del genere mi raccomando lasciate sempre integro lo zabbix server il database dello zabbix server questo va a utilizzare dei campi che erano in più e quindi non dà nessun problema durante gli aggiornamenti non c'è nessun problema di sorta cos'è che non possiamo fare non possiamo rendere visibile questo modulo a agli zabbix user e agli zabbix admin solo il super admin può operare con questo modulo ci sta ci sta perché se non sai che cosa stai facendo potresti solo creare dei casini ok quindi ci sta che l'abbiano relegato solo a utenti privilegiati utenti ad amministratori quindi secondo me è giusto come si installa allora è banale quindi da per scontato che cosa che abbiamo già installato il nostro zabbix server che funziona senza problemi perché d'altronde e poi ci dice posizionati su una directory ben specifica questa qua la user share zabbix modules ok cos'è questa directory questa directory la user share zabbix e dove di default su ambiente redact based andiamo a installare tutta la componente front end dello zabbix quindi in parole povere i file php di zabbix sono creati all'interno di quella directory chiamata zabbix sotto user share la modules è una directory normalmente vuota se non avete installato altri moduli quindi di default è vuota e dovremo andare a a riporre lì dentro il modulo che vogliamo installare in questo caso il sequel explorer quindi dobbiamo andare a creare una directory come vedete qua mk dire poi andiamo dentro la directory scarichiamo da github l'ultima versione di questo modulo la scompattiamo e teoricamente siamo pronti per poter provare in questo modulo quindi proviamo a vedere come si fa insieme quindi proviamo a seguire proprio quello che ci viene detto qua dentro nella documentazione questa è la mia macchina dove abbiamo installato lo zabbix vi faccio vedere i pacchetti quindi ripeto questa è una versione LTS 6.0 su ambiente redact based nella fattispecie una rocky linux quindi quello che avremo da fare la nostra guida sarà solo seguire i passi se usate un'altra distro probabilmente questa la directory famosa user share non sarà quella corretta perché a seconda della distro potrebbero essere differenti questi path quindi occhio a dove andate a creare queste directory quindi se io vado a vedere cosa c'è qua dentro sotto user share zabbix come vedete c'è praticamente tutti i file di frontend del nostro zabbix i file php all'interno come si può vedere c'è una directory si chiama modules io c'ho già dentro delle cose qua dentro da altri moduli che avevamo fatto vado a creare la directory con il modulo quello nuovo entro dentro nella directory e a suo punto faccio una booghette e mi prendo il modulo da github quindi mi scarica il modulo qua dentro vedete ho il modulo faccio un bello zip di questo modulo voilà poi vado a toglierlo perché non mi piace lasciare lo zip qua dentro va bene e quindi vedete che all'interno di questo directory ci sono solo le componenti fondamentali di questo di questo modulo per zabbix quindi adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo andare sul browser perché per adesso abbiamo finito tutto praticamente non c'è nient'altro da fare dobbiamo andare sul nostro browser e andare sulla pagina dello zabbix quindi un attimo voilà sotto administration general abbiamo un menù che si chiama modules ok qua teoricamente mi già già mi fa vedere che abbiamo il sequel explorer quindi questo nuovo modulo me lo fa vedere se per caso non comparisse cliccate su scan directory ok lui va a vedere se ci sono dei moduli nuovi qua nella fattispecie mi ha detto non ce ne sono di nuovi ma occhio che perché vedete che questo qui è disabilitato quindi di default quando trova un modulo un modulo nuovo non lo abilita quindi dovete abilitarlo lo abilitiamo è stato abilitato senza problemi perfetto lo vediamo anche da qua non ci ho neanche fatto caso e dove troviamo questo nuovo questa nuova pagina all'interno dell'interfaccia grafica di zabbix sotto administration sequel explorer eccolo qua vedete proprio che c'è questa interfaccina qua che ci permetterà appunto di andare a fare delle query a mano libera c'è una parte di configurazione che di default praticamente che cosa ci previene ci previene di fare delle cavolate tipo bloccare delle query che sono di insert delete truncate create e drop cioè sono le query più pericolose che voi potreste mai fare all'interno del database di zabbix ok quindi ci sta che hanno una specie di blacklist delle dei comandi sequel che sono pericolosi e quindi ci sta poi ci sono altre opzioni ma direi che quelle di default vanno benissimo così vediamo cosa c'è qua abbiamo la possibilità anche di salvarci delle query che usiamo di più qui avremo la query che vogliamo lanciare poi faremo una preview e poi c'è il tasto esporta su csv ritorniamo sul blog perché nel blog oltre spiegarvi quello che vi ho già fatto vedere vi dà anche delle cosine carine dei dei regalini perché ok che questo modulo ci permette di esportare in csv delle query che noi vogliamo ma in più anche han detto nel blog ma vi facciamo vedere quali sono delle query furbe utili tutti i giorni per chi amministra uno zabbix server per esempio come vedete qua verificare che gli host che abbiamo configurato funzionino in maniera corretta e quindi che ci siano gli agenti che mandano i dati che non ci siano degli unreachable agent o cose di questo tipo e come faccio qua vi mette due query una per zabbix 5 un'altra per zabbix 6 io vado a prendermi questa query e andiamo a vedere cosa succede nel mio nella mia macchina quindi metto la la query e faccio preview ok vedete che mi ha fatto mi sta facendo vedere che ci sono cioè praticamente c'è due anzi è un unico host però ha due interfacce e mi dice che ha dei problemi di connettività verso questo host se avessimo una grande installazione noi velocemente sapremo quanti host hanno dei problemi di connettività e non è banale ok quando avete 34 mila host andare a cercare tutti quelli che hanno problemi non è mai così agile e scattante e quindi io potrei salvarmi anche questa query e la chiamo magari unreachable zabbix agent no mi prendo questa cosa qua me la stampo me la salvo qua new e così ho la possibilità di andare a riutilizzarla più avanti per quando mi servirà ok vedete quindi qua ce l'ho salvata e la prossima volta che voglio lanciarla di nuovo non devo rifarla da capo altra cosa carina secondo me anche per i dispositivi con monitoraggio snmp e questo è un classico ok veramente un classico cercare di capire quali sono gli host che monitorati tramite protocollo snmp che non funzionano ok quindi andiamo a provare a vedere se nella mia installazione ne abbiamo qualcuno no non ne abbiamo nessuno ok quindi mi salvo anche quest'altra me la porto da parte altra altra cosa interessante per esempio qua per migliorare l'interfaccia la velocità dell'interfaccia di zabbix quindi andare a verificare che non ci siano troppe sessioni aperte cose di questo tipo all'interno del nostro zabbix server quindi mi prendo di nuovo la query vado a cancellare quella precedente e andiamo a vedere quante quante ce ne sono effettivamente attive bene ce ne sono 48 per l'utente admin e una solo per l'utente bremero ok quindi non è una situazione tragica ma comunque si potrebbe cancellare qualche sessione che è rimasta lì appesa chissà da quanto quindi potrebbe essere utile soprattutto chi ha installazioni grosse che girano da tanti anni potrebbe essere utile fare dei controlli di questo tipo altra cosa interessante è questa qua non perdersi i problemi che sono aperti e magari sono in mezzo a tanti una situazione ingarbugliata di tanti problemi sarebbe utile avere magari un report della sommatoria di questi problemi e abbiamo qua proprio una query che ci risolve questo problema quindi andiamo a vedere anche qua vado a verificare questa qui e vedete che abbiamo 34 problemi in trigger problem state ok quindi ci sta nel mio caso non è una cosa mostruosa quindi va benissimo va benissimo così non è una grande un grande problema altra cosa interessante verificare le discrepanze dei degli update interval tra quelli configurati all'interno del template e poi quelli invece messi in override sul singolo host perché potrebbe accadere magari uno da il template a mille host e poi per fare dei test e cose di questo tipo va a modificare gli update interval cosa succede più delle volte ti dimentichi ti dimentichi e quindi le lasci lì e non hai modo di controllare in maniera facile qua con questa query andiamo proprio a verificare questa situazione qui quindi delle delle anomalie rispetto a il template standard in questo caso fortunatamente non ne ho ma se ne avessi avuto ma avute di queste anomalie avreste qua un'informazione dove vi dà come sorgente il il template o l'host e poi l'item e l'update interval che effettivamente è stato cambiato in più vedete goto vi permette di andare velocemente verso quell'item specifico quindi una specie di hyperlink all'item che ha che soffre di quel problema quindi può essere veramente molto comodo ci sono tante altre cose secondo me un'altra un'altra cosa in carina sono gli item abbandonati che viaggiano per qualche strano motivo da soli senza avere un template collegato o cose di questo tipo quindi può essere può essere utile fare una verifica di questo tipo proviamo anche a vederla nel mio ambiente ovviamente e capita ok quando non per esempio vedete qua tutti i item che sono stati creati a mano e non provenienti da un template ok normalmente è meglio non averne tanti ok perché bisogna lavorare il più possibile sulla parte di template e non andare a creare degli degli item ad persona per un host specifico altri altre query interessanti sulla parte di reportistica qua mostra i i metodi più utilizzati di collezionamento dei dati quindi per esempio vogliamo capire quali sono i item che utilizziamo di più tipo SNMP o calculated o agent quanti ne stiamo usando quante metodologie stiamo utilizzando e qua vediamo proprio appunto quali stiamo utilizzando e quante quanti item abbiamo utilizzato all'interno di ogni singolo cioè per ogni tipologia di item type ok quindi è interessante come come soluzione device and link template anche qui attribuzioni dell'host con il relativo template possibilità di estrarre informazioni dall'inventory ci sono veramente tanti esempi molto molto utili è chiaro che dovete capire di che cosa si sta parlando però sappiate che secondo me è una fonte molto utile per chi è un pochino più smaliziato e ha delle installazioni un po' grandi sicuramente non dico tutte queste query ma alcune di queste query sono veramente molto 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 utili boh per oggi direi che è tutto volevo mostrarvi questo modulo perché lo ritenevo veramente molto molto interessante se chiaramente avete dei dubbi perplessità iscrivetevi a Zabbix Italia su Telegram così possiamo condividere io cerco di fare il mio possibile ma lavorando facendo tante cose non è facile anche tutte le volte rispondere tempestivamente ma non ci sono solo io è pieno di altre persone all'interno della community italiana di Zabbix in ogni caso se volete commentate anche qua nel video perché mi è utile anche per capire che cosa vi interessa di più o chiarire alcuni aspetti ma detto ciò siamo ancora tra l'altro in attesa della versione 6.4 di Zabbix non fatemi ulteriori domande in merito perché non lo so neanche io da poco è uscita la 6.4 beta 5 quindi siamo veramente lì lì e lì con l'uscita definitiva ma non ho delle date ancora ben precise quindi non mi voglio sbilanciare più di tanto per oggi è tutto grazie ancora di aver visto questo video e ci vediamo in una prossima puntata grazie ancora a tutti ciao da Dimitri